I pronomi oggetto diretto. La frase è come un treno, la locomotiva è il verbo, poi ci sono i complementi. The sentence in Italian is like a train. There is an engine, that is the verb. Then there are complements, that they are the wagons. Wagons. Mangio la pizza al ristorante. Se voglio vollecizzare la frase, trasporto il complemento oggetto davanti alla locomotiva. La mangio al ristorante. La è la pizza. If I want to make this sentence faster, I'm going to transport the object in front. Vedo Mario. Lo vedo. I see Mario. Incontro gli amici. Li incontro. Saluto le ragazze. Le saluto. Direct object. Direct object receives the verb action directly. The dog ate the bone. Direct object pronouns replace object noun. The dogs ate it. In Italian, the direct object pronouns corresponded to me, him, her, it, etc. Singular. Mi, ti, lo, la, l. Plurale. Ci, vi, li, le. In Italian, unlike English, the direct object, another type of pronouns, precedes the verb when the verb is conjugated. La vedo. Lo guardo. Le mando. Li mangio. Quando l'infinitive construction is used, the direct object pronoun attaches to the infinity after dropping the final i. Devo studiarlo. Dobbiamo finirla. Vado a prenderli.